Il Consiglio di Stato interviene ancora una volta sui balneari e boccia il governo Meloni. Non si possono prevedere proroghe. Le concessioni scadono il 31 dicembre di quest'anno e vanno messe a gara. La sentenza 2192 del 1 marzo assesta un duro colpo alle norme inserite in Parlamento al decreto 1000 proroghe. Un'ennesima coltellata alle spalle dopo quella del fine 2021. Adesso bisogna vedere la politica e come risponde. Naturalmente noi confidiamo nel governo Meloni che è un governo importante, ha fatto tante promesse soprattutto per il comparto balneari. Dovrebbe dare una risposta alquanto immediata visto che anche la delega sul demanio, quindi sugli stabilimenti balneari, la Presidente Meloni se l'è tenuta per sé. Da un lato i balneari, le storie delle imprese familiari. Dall'altro i canoni irrisori versati allo Stato, un dato che invece accoglie la direttiva europea. Dalle tabelle del Ministero dell'Infrastruttura, giornate a maggio del 2021, si scopre che per le 891 concessioni balneari da Martinsicuro a San Salvo, il prezzo medio di 13.000 euro l'anno, poco più di 1.000 euro al mese. E se ci sono stabilimenti che pagano anche più di 40.000 euro, sono 250 circa quelli che non superano il canone annuale di 5.000 euro. E in molti casi, tra questi, le 3.000 euro. Le prospettive dovrebbero essere attualmente negative perché abbiamo alle porte una stagione estiva. A parte le guerre e tutto quello che ci sta circondando intorno, insomma, il comparto balneare con 30.000 aziende, direi che è abbastanza importante da prendere immediatamente per risolverlo una volta per tutte.